Ciao, sono Silvio Capretti e sono molto contento di annunciarti che a partire da lunedì 1 giugno inizierà una collaborazione con Music Off. Nel corso intitolato Songmaker ti spiegherò come comporre un brano da zero utilizzando solo materiale che potrai trovare all'interno di Cubase. Ti darò informazioni riguardanti il MIDI, i virtuali instrument, i plugin da utilizzare e molte altre funzioni utili per la produzione. L'obiettivo del corso è mostrarti la facilità con cui è possibile creare un brano in poco tempo. I video verranno pubblicati ogni due settimane sul canale di Music Off, ti lascio il link qui sotto in descrizione. Non mi resta quindi che salutarti e darti appuntamento a lunedì. Ciao!